L'equilibrio ci vorrebbe nell'affrontare questa situazione cercando di non generalizzare. Lo dico al dottore. Noi stiamo vivendo una fase nella quale i magistrati finalmente hanno capito che cosa significa lo sputtanamento delle intercettazioni non penalmente rilevanti sui giornali. Intercettazioni che spesso rovinano carriere, persone, dite. Chiaramente i magistrati non sono tutti uguali. La gran parte dei magistrati è la categoria di cui fa parte lei. C'è gente che lavora nel silenzio, arresta, fa bene, continua a portare risultati. E poi c'è un pezzetto che da queste chat è risultato raccomandato. Perché molte persone, come ha detto Massimo inizio trasmissione, sono andate nei posti che contano perché facevano parte di alcune carriere. E su queste intercettazioni, e lo dico sia i giornalisti che i magistrati presenti qui, noi non stiamo ascoltando molto i cronisti della giudiziaria, quelli che normalmente si accapigliano per avere le registrazioni e metterle sui giornali, che hanno fatto sì che i procuratori facessero carriere e stesso loro hanno fatto carriera. Oggi non hanno paura di prendere il buco. Come mai accade questo in un momento così delicato per la magistratura? Che purtroppo l'indagine di Matteo, cioè che abbiamo fatto giornalistica noi, che ha messo comunque una verità sul piatto, di cui si discuterà nelle prossime settimane, insieme alla vicenda di Luca Palamara e quindi dei tanti magistrati che sono emersi in queste chat, produce un solo effetto, la paura del cittadino. Perché oggi un cittadino che si ritrova ad andare a processo per errore, o perché è giusto che vada a processo, avrà paura. E queste cose distruggono purtroppo un'intera categoria di persone per bene di cui lei fa parte. Sono perfettamente d'accordo. Io mi lotterò fino alla morte per dire che la nostra magistratura ha una grandissima qualità. I magistrati sono persone di qualità, professionalmente capaci e valide. Il problema all'interno della nostra categoria è, e non è emerso oggi, ma è un problema notissimo, è un problema di etica. Un problema, vede qual è il discorso, che noi abbiamo, molti di noi hanno pensato, che autonomia e indipendenza fosse un diritto. Invece autonomia e indipendenza alla magistratura è un dovere. Noi abbiamo il dovere di essere autonomi e indipendenti, perché il cittadino deve venire da noi sapendo che trova una persona libera, che lo giudicherà liberamente, che deciderà della sua vita liberamente. Questo purtroppo non siamo stati in grado di farlo e di dare questa immagine. E oggi, come ho dissi un anno fa a Marsala, il re è nudo. Ma quando dissi questa cosa, insieme in una platea fatta di miei colleghi, fui isolato. Quella sera mangiai da solo con la mia compagna, perché nessuno mi voleva stare accanto, perché ero l'untore. E con i magistri. E' emerso uno scandalo.